Ma che pagella? Allora questa, se vuoi dire... Immigrazione 10. Immigrazione? No, la patrimoniale 10. Ah, quella proprio è certa. Rapporti con l'Egitto 10. Eh, certo. Italiano 5 più. Ma come 5 più? Ma qui partivamo da zero come mogli. Ma non offendano. Norma, salva media se 10 elode. E bacio accademico a Silvio. Perché le è piaciuta tanto quella cosa lì? Spiego, perché lei è tardo. Ma non sono tardo, guardi. Di Maio diventa un mio amico. Sì. Muoiono i 5 stelle. Eh. Muore il governo. Ah, io? Muoiono tutti. Si salva solo chi? Chi? Non ci arriverà mai. Mediaset. Ah, quindi... Si salva Mediaset. Ah, ma scusi, quindi... Si salva Mediaset. Abbiamo capito, si salva Mediaset. Quindi tutti questi complimenti erano solo per salvare le aziende di Berlusconi? Però ha funzionato, ha visto? Ah, beh, quello sì, certo. Benvenuto nel 94. Ma come nel 94? Se ne accorta persino lei che è un cretino, studorato, un ignorante, un truffatore. No, no, no. Non offenda, per favore. No, guardi, se la volevo offenderla la chiamavo Di Maio. Quindi adesso faremo cadere il governo. Faremo cadere il governo, faremo cadere il governo. No, no, Brunetta. Sono caduto io. Infatti.